Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro terzo webinar di ITS Macchine Alonati. ITS Macchine Alonati di Brescia, oggi parleremo e il nostro webinar si intitola ITS Macchine Alonati Technology e sarò accompagnata da docenti del nostro istituto. ITS Macchine Alonati di Brescia è un istituto di alta formazione che all'interno prevede diversi percorsi, con me oggi interverranno tre professori del nostro team, professoressa Michela Di Stefano del Dipartimento di Moda, la professoressa Giulia Cron Morelli del Dipartimento di Design e il professor Tiziano Fruet del Dipartimento di Comunicazione. Io sono Maria Luisa Musmeci, sono la coordinatrice dei tutor di ITS. All'interno del nostro istituto abbiamo appunto tre dipartimenti con diversi percorsi formativi, dipartimento di moda che prevede questi tre percorsi, stilista tecnologico, tutto l'ambito moda per la realizzazione di capi, 3D Fashion Designer, l'aspetto un pochino più tecnologico dell'ambito moda, Fashion Retail Manager 4.0 per chi ama invece il mondo dei negozi e quindi della vendita, e poi il Dipartimento di Comunicazione con Marketing e Comunicazione per l'internazionalizzazione, quindi chi ama l'aspetto del marketing un attimino più classico, il Dipartimento di Marketing e Communication Manager per chi invece ama l'aspetto digitale, il nuovo aspetto del marketing, quello dell'ambito digitale, e l'e-commerce marketing manager invece per chi è interessato a tutto l'ambito della vendita online, quindi di tutte le piattaforme di vendita online. Infine il Dipartimento di Design con il corso di Product and Design Manager, quella figura che è un connubio tra un esperto di marketing e un esperto anche di design. Come dicevo tre professori, perché abbiamo chiamato questo webinar ITS, e macchine online ITS Technology, perché all'interno del nostro istituto sempre di più utilizziamo delle tecnologie all'avanguardia che pian piano si affacciano nel mondo del lavoro. E quindi con questi docenti, che sono professionisti del settore, dei loro settori, ci potranno spiegare queste nuove tecnologie, queste nuove software, come possono essere utili ai nostri studenti e come possono essere utili poi all'interno dell'ambito lavorativo. Partirei subito con la prima docente, la professoressa Michela Di Stefano. Michela, buongiorno. Buongiorno Luisa, grazie di avermi invitato a questa giornata. Buongiorno a tutti e a tutte. Perfetto. Io ti lascerei la parola libera di raccontarci che cosa fai in ITS e che cosa trovi nei nostri studenti di ITS e quali sono le tecnologie che tu utilizzi. Grazie. Prima di tutto, come ha detto giustamente Maria Luisa, molti professori sono, come ha già anticipato, dei professionisti e quindi il mercato ci richiede di essere sempre all'avanguardia, molto competitivi e molto preparati sulle novità in arrivo. Ed è ovvio che portiamo quindi queste competenze all'interno delle aule e le condividiamo con i ragazzi che ci seguono. Quindi spero che quello che vi farò vedere sia veramente qualcosa che potrà permettervi di aprire delle porte sul mondo del lavoro in netto anticipo rispetto a quello che c'è sul mercato ora. Per esempio, a giugno di quest'anno Adobe ha acquisito un'azienda che si chiama Substance, l'ha fatta completamente propria e ha completamente ridisegnato questi software che io quest'anno nel percorso di fashion 3D, di moda, sto andando ad insegnare. Io ho insegnato anche Illustrator negli altri anni, ma quest'anno mi sono dedicata proprio a queste novità. Quindi chi segue il nostro percorso imparerà ad utilizzare questi software che sono appena arrivati sul mercato. Che cosa sono di fatto in poche parole? Uno di questi che è una nuova versione del programma Dimension che magari qualcuno di voi ha avuto modo di incrociare magari navigando sui vari siti, serve per creare dei mock-up tridimensionali senza modellare. Cioè, all'interno del percorso poi conoscerete la professoressa Giulia Cromorelli che insegna anche modellazione, ma supponiamo che uno non sappia modellare come la sottoscritta. Con questi software riesce a fare dei mock-up fotorealistici e delle cose veramente incredibili che non sarebbero alla portata di una persona che non sa modellare. Quindi ora vi faccio vedere in poche parole questi software che cosa permettono di fare. Prima di tutto, la suite di Adobe Substance 3D è una suite parallela a quella di Adobe, quindi non fa parte del pacchetto solito InDesign, Illustrator, Photoshop, eccetera, proprio perché è molto professionale, ma va ad impattare su un'infinita possibilità di mercati e di processi, perché si possono utilizzare per fare interior design, gaming, packaging, fashion, modellazione 3D, perché ovviamente si creano dei materiali che si possono applicare a dei modelli 3D creati con altri programmi, fotografia virtuale, automotive, il mondo dell'arte anche può essere, si può utilizzare questo software per fare delle creazioni puramente artistiche, e l'architettura. Quindi voi capite che imparare queste competenze apre veramente un sacco di possibilità in tutti questi mercati, e ora io vi farò vedere in concreto alcuni esempi che sono stati creati con questi software. Ad esempio, se voi guardate questa immagine, io la chiamo appunto fotografia virtuale, perché di fatto è uno scatto che sembra a tutti gli effetti una fotografia. Invece, se vado a cliccare, abbiamo a sinistra la fotografia originale, lo scatto fotografico, nella parte centrale il rendering, che è quello che si vede sulla destra senza texture, ricostruito con le immagini e i materiali fatti con Dimension, quindi quel programma che esiste già dal 2017. Quindi potete capire che se qualcuno mi passa gli oggetti 3D modellati, io posso associare materiali, metalli, luci, e questo software fa un rendering in automatico fotorealistico, quindi la cosa molto bella di questi pacchetti è che crea in automatico il rendering finale con le luci, i riflessi dei materiali senza doverli creare da zero, quindi è veramente potente. Immaginatevi quanto tempo ci vorrebbe a fare un fotomontaggio come questo con Photoshop, e qui, avendo utilizzato un prodotto 3D come questo vecchio Mac Classic, è stato inserito all'interno di questo fotomontaggio, ma il vantaggio di avere un oggetto 3D è che se viene chiesto di cambiare forma, cambiare posizione a questo oggetto, non essendo bidimensionale, capite che il lavoro è sicuramente tanto, ma si riduce nettamente. Ma facciamo un passettino ancora in avanti. Ci sono tanti mock-up bidimensionali su internet che si possono scaricare, si possono modificare in pochi click con Photoshop, e li conosciamo sicuramente tutti, ma immaginatevi se invece di avere semplicemente un logo attaccato su queste tazze, quindi così riprodotto con un mock-up bidimensionale, il cliente dovesse chiedere una modifica, per esempio, sul materiale delle tazze, quindi invece di averle di vetro, o colorate, le voglio avere di legno, e quindi devo avere l'effetto dell'etichetta che si riproduce sul legno. Quello che state vedendo è infatti il mock-up creato con Adobe Dimension. Peggio ancora se qualcuno mi chiedesse di far diventare quella tazza di vetro, quindi con tutte le trasparenze, i riflessi e l'immagine che ci sta dietro. Con Photoshop sarebbe un lavoro pazzesco, e come notate, le tazze sono state anche girate nella loro posizione, proprio perché il risultato finale saranno delle immagini fotografiche, ma per crearle sono stati utilizzati dei modelli 3D. E questo era un esempio per farvi capire che posso sfruttare questo prodotto nel mondo del design e del packaging. Ma pensiamo al mondo della moda. Io devo creare una stoffa e devo mettere su questa stoffa degli elementi dorati. Ancora una volta fare questo effetto, renderlo con Photoshop, sarebbe veramente, veramente complicato. Guardate questa carrellata. Qui è stata creata un pattern con Illustrator, con queste stelline gialle. Sotto la stoffa era una stoffa scannerizzata, ma grazie ai programmi di sampler, di Substance, ecco che questo diventa veramente un materiale con l'effetto metallico sulle stelline. E poi è stato applicato a un modello 3D che è già dentro nel programma. Quindi in pochissimi passaggi è possibile creare il materiale, applicarlo sul prodotto, in questo caso una borsa che c'è dentro nel programma, e fare degli scatti fotografici che possono essere caricati, per esempio, su un sito web oppure all'interno di una brochure. Come potete vedere, io adesso sto scorrendo le varie angolazioni fotografiche di questa borsa 3D. Quindi con un'immagine bidimensionale, questo non sarebbe possibile. Per arrivare poi allo scatto ambientato, dove le luci, le ombre e tutta l'ambientazione sono create appunto in versione automatica da questi programmi di ultima generazione. Ancora un passaggio in più, se non siamo contenti di questo materiale fatto con le stelline, grazie ad Adobe Substance Sampler, si chiama il programma, si possono creare tutti i materiali che vogliamo. E quando parliamo di materiali, poi vedremo in un video, li possiamo usare in tutti i settori che vogliamo. Ecco qui un esempio della stessa borsa dove è stata creata una pelle con delle cuciture arancioni, qui è stata creata una pelle con delle piccole borchiature di colore tono su tono, e del legno che fa da sostegno a questi due prodotti. Anche questo materiale legno con tutti i graffi che lo compongono sono stati creati con questo materiale. Quindi Michela, ti interrompo solo un attimo per far capire i nostri studenti e i ragazzi che ci stanno seguendo. Quindi questo programma permette veramente di poter creare virtualmente tantissimi prodotti senza doverli realizzare, avere dei prototipi. Quindi le aziende potrebbero utilizzare questo software proprio per ottimizzare i costi nella prototipia di un oggetto o di un capo di abbigliamento. Possono preparare la brochure, il catalogo senza che gli oggetti esistano, perché adesso racconto questa cosa molto simpatica, questi tre cappellini sono tre cappellini io ho comprato il modello 3D sempre per il fatto che io non sono capace a modellare e quindi ho scaricato questo modello, l'ho comprato per pochi dollari e l'ho rivestito con questi materiali di jeans di colori diversi e il ricamo l'ho fatto con un'azione di Photoshop alla fine perché non c'era ancora questa suite ma adesso c'è la suite di sampler che mi permetterà anche di fare i ricami. Quando ho messo questi cappellini su Facebook un mio amico che lavora nel mondo dei gadget mi ha chiamato e mi ha detto Michela non mi hai fatto fare il preventivo dei cappellini e io dico ma quali cappellini? E' quelli che hai messo su Facebook ma no ma sono finti quindi erano talmente fotorealistici che pensavo fossero veri questo per darvi un'idea. per spiegare a chi non ne sa niente come me di questo mondo quindi modellare vuol dire cioè realizzare proprio in 3D quello che è l'oggetto penso giusto? Esattamente per esempio questi moduli esatto è quello che fa poi Giulia Cromorelli quindi la professoressa Cromorelli durante il suo percorso tu invece ti occupi dello stesso successivo quindi quello di decorare diciamo possiamo dirlo così in maniera proprio rivestire questi oggetti 3D con dei materiali che si possono creare in autonomia questa è veramente una cosa fantastica ok ma un ragazzo che magari la scuola superiore non ha studiato queste cose cioè non ha fatto una scuola con un'impronta legata al mondo dei software di questo tipo riesce comunque a impararli partendo da zero oppure è veramente difficile a tutti i miei allievi partono da zero non hanno mai visto questi programmi ma io non li avevo visti prima di giugno di quest'anno per cui siamo proprio tutti nella stessa barca ma te lo dico Luisa perché sono veramente semplici e ovviamente con la professoressa Giulia impareranno anche a creare degli oggetti 3D ma se io non sapessi modellare come io non sono modellare di fatto questi moduli che tu vedi in questa immagine è tutto finto tranne la modella che cosa vuol dire che queste forme cilindri cubi piramidi eccetera coni sono fatti tutti con le figure di base che ci sono all'interno del programma immaginati se questo fosse uno scatto fotografico vero la modella va a casa arriva il cliente e mi dice vedi questa torretta qui fatta di questi elementi me la sposti a sinistra io dovrei rifare il set fotografico richiamare la modella sarebbe un bagno di sangue invece essendo tutto finto l'unica cosa reale è la ragazza io sposto gli oggetti 3D rifaccio il rendering e abbiamo risolto il problema quindi è veramente una cosa incredibile queste sono le forme di base che trovi nel programma non devi neanche imparare a modellarle perché sono già dentro del software quindi è veramente una grandissima potenzialità questi questi programmi enorme ma guarda qui questi sono tutti esempi che io ho fatto d'estate mentre studiavo il programma perché come faccio ad insegnarlo se non lo imparo fondamentale direi quindi ho dovuto fare delle prove e ho cominciato a prendere le stoffe creare i ricami vedere come veniva la luce ambientata su questi materiali quindi mi sono veramente divertita tantissimo io non faccio questo di lavoro non creo materiali non creo ricami ma devo solo insegnare l'uso del software quindi è veramente stato un grande divertimento io adoro questi software nuovi li vorrei fare tutti i giorni della mia vita ma non faccio questo di lavoro adesso vi faccio vedere che con questo video molto molto breve il mondo di questi pacchetti dove va ad impattare tutto quello che state per vedere adesso lancerò il video è tutto in 3D quindi questi effetti che vedrete adesso lo faccio partire vado un attimino avanti e tolgo l'audio vado qua ecco tanto qua ecco qua da qua in poi questa auto è un modello 3D i riflessi i materiali sono fatti tutti con questa serie di pacchetti di substance quindi anche nel mondo dell'architettura come si può vedere adesso piuttosto che dell'interior design se uno vuole imparare a fare le stoffe per i divani per gli ambienti i marmi i pavimenti come vedete è tutto veramente personalizzabile è facile anche nelle stoffe in questo caso mondo moda è facile ma divertente molto creativo quindi apre un orizzonte che prima non c'era quindi veramente ci si può inventare un lavoro in un mondo dove essere capaci a fare qualcosa di diverso apre veramente la porta delle aziende quindi anche se uno impara a usare questi software poi va a lavorare in un'azienda che fa gli interni per le auto va bene se fa questo tipo di studio e poi va a lavorare in un'azienda che fa le stoffe per le camice va bene va a lavorare per chi fa le cover per i cellulari va bene quindi è veramente una competenza che permetterà a chi segue questo percorso di avere delle possibilità veramente molto molto attuali che nessun altro ha in questo momento in Italia perché io lavoro con le aziende e le aziende non sanno neanche che esiste questo tipo di pacchetto guardate qui delle semplici confezioni adesso è andato avanti il video delle confezioni di qualsiasi genere si possono fare i loghi si possono applicare gli effetti di lucido di opaco quindi è veramente un pacchetto molto molto potente da questo punto di vista adesso è stato acquisito da Adobe e quindi l'hanno molto semplificato e ancora una volta vi faccio vedere anche quest'altro esempio perché partendo da zero con questa piccolissima immagine in bianco e nero che c'è sulla sinistra quindi un'immagine di photoshop grazie al programma di sampler ho provato a creare dei materiali cambiando i colori era un jeans sono partita da un jeans base e aggiungendo tutti gli effetti che ho trovato dentro i pattern la grana della stoffa ho potuto fare delle sperimentazioni e ottenere questi due materiali con questi due materiali ho preso l'immagine di sfondo che c'è dentro nel programma ho preso le due seggioline che sono dentro nel programma già pronte già modellate e ho associato i materiali alle due seggioline e poi ho aggiunto anche un pochino di legno sulle gambe delle due poltroncine mentre il pianale di vetro e la parte sotto sono semplicemente due cilindri uno molto schiacciato uno un pochino più alto le ho messe all'interno dell'immagine e tutto il resto l'ha fatto il programma in automatico quindi quello che si vede la luce che entra dalla finestra le ombre proiettate i riflessi del vetro lo fa tutto in automatico il programma una cosa che per me era assolutamente impensabile fino a qualche mese fa questo per darvi un'idea di che cosa vuol dire saper usare questo nuovo pacchetto questo è un altro esempio ancora io ovviamente facevo tutte le sperimentazioni possibili infatti poi adesso stiamo facendo con i ragazzi tutti i vari esempi impariamo a fare i ricami impariamo a inserire i pattern di illustrator perché qui il problema è io non devo avere solo queste competenze devo anche saper disegnare per esempio con illustrator ma di questo si occupa il professor Fruet che parlerà dopo quindi imparando queste competenze di disegno vettoriale si possono poi portare all'interno di questo pacchetto ecco che poi tutto torna perché imparando varie competenze si mettono tutte insieme e si ottengono dei risultati come questo per fare dei fotomontaggi fotorealistici in 3D e adesso vorrei farvi vedere due esempi perché questa attività ovviamente torna molto utile anche in periodi un po' di difficoltà durante la pandemia l'azienda americana Ben & Jerry's che produce gelato doveva fare tutti i suoi scatti fotografici purtroppo non ha potuto farli perché non potevano andare in giro a fotografare i prodotti e avevano bisogno di promuovere i loro prodotti nei vari siti internet facendo degli scatti fotografici e quindi cosa hanno fatto? Hanno utilizzato questo programma appunto Dimension e Stager e Sampler eccetera e in questo caso io ho fatto degli screenshot di Adobe Max che è l'evento quello di Adobe per farvi vedere che partendo da uno scatto fotografico senza i prodotti hanno poi inserito i prodotti 3D quindi lo scatto prima era senza prodotti e poi ci hanno messo dentro i prodotti con la grafica le etichette eccetera quindi hanno utilizzato la possibilità di fare dei mock-up fotorealistici non con Photoshop ma con questi modelli 3D e qui ce ne sono altri di scatti c'è tutta la storia poi sul sito di Adobe se qualcuno è curioso di andare ad approfondire Ben & Jerry's raccontano come hanno fatto questi scatti quindi la fotografia è bidimensionale i tappi i coperchietti i brattolini sono tutti modelli 3D ancora una volta qui ce n'è un altro ok quindi capite che anche in momenti di difficoltà aver la possibilità di fare dei fotomontaggi realistici degli scatti di fotografia virtuale può tornare veramente utile unire le forze in questo caso questo era un esempio di livello internazionale ma ce n'è ancora uno la Mattel l'azienda che produce la famosissima Barbie ha avuto lo stesso problema hanno deciso di fare i loro mockup in versione di rendering anziché fotografica ed ecco che qui sono praticamente indistinguibili la versione realistica e quella invece 3D quindi qua ci sono altri esempi hanno messo nella vetrina la versione 3D aspettate che eccola qua questa è la confezione dei due prodotti ambientata quindi è possibile veramente fare una cosa che sembra tutti gli effetti reale e quindi se c'è da cambiare qualcosa è veramente semplice e poi nel caso di confezioni nel caso di personalizzazioni per cambiare i colori i loghi farlo su un modello 3D è ovviamente molto molto più semplice e meno impattante sulle tempistiche quindi diventa uno strumento essenziale per le aziende che hanno sempre i tempi molto ristretti quindi a livello competitivo è veramente interessante benissimo direi che tutto molto chiaro meno male l'ultima cosa questi prodotti questa suite permette anche di affacciarsi alla realtà aumentata che cosa vuol dire che io da questi programmi posso esportare per un software che si chiama Aero l'applicazione Aero è quella che permette di far vedere nella realtà aumentata degli oggetti 3D allora vi faccio vedere questo esempio che ho creato questo è vecchio vecchissimo è una scarpa una scarpa 3D a cui sono stati applicati dei materiali diversi l'ho fatta comparire tramite Aero sul divano del mio ufficio e che cosa posso fare oltre che giragli intorno con la telecamera come state vedendo posso anche toccare la scarpa e ogni volta che la tocco cambia il materiale perché è possibile interagire con l'oggetto 3D in realtà aumentata quindi immaginatevi far vedere al vostro cliente e in questo caso si pensa come si può interagire con un prodotto e far vedere al cliente che cambia colore piuttosto che quando lo tocchi parte un'animazione ad esempio quelle due borse che vi ho fatto vedere all'inizio eccole qua vedete c'è quella di pelle con le cuciture c'è quella di pelle con le borchie le ho fatte comparire nel mio ufficio e gli sto girando intorno e a un certo punto succederà qualcosa quindi si possono veramente creare dei prototipi realistici in realtà aumentata questo è l'ultima diciamo il raggiungimento del percorso finale che chi partecipa appunto al programma al percorso formativo di Fashion 3D impara a fare quindi dalla creazione del materiale fino alla realizzazione di un mock-up tridimensionale che poi è fatto con Dimension con Stager fino ad arrivare alla realtà aumentata quindi è un percorso veramente completo che dovrebbe permettere ai ragazzi che seguono questo percorso veramente di avere un'arma letale per farsi assumere poi quando finiscono il percorso di studi cosa ne dici Luisa è vero o no? è vero è vero allora diciamo che nel dipartimento di moda l'ultimo corso nato è proprio stato quello di 3D Fashion Designer proprio per questa esigenza sempre di più delle aziende di cercare di abbattere i costi di prototipazione e avere degli strumenti tecnologici che permettessero anche comunque la sperimentazione di nuove cose senza avere dei costi elevatissimi poi nella prototipia quindi assolutamente e le aziende poi con tutto il discorso anche pandemia covid stanno sempre di più cercando questo tipo di figure all'interno del loro team e del loro staff quindi molto nuovo molto tecnologico e molto richiesto dal mercato assolutamente bene io vi ringrazio lascio la parola a Luisa che così può allora io direi visto che abbiamo parlato del virtuale faccio entrare in questa cosa Giulia che ci parla anche lei di una parte virtuale ci parlerà della modellazione che abbiamo nominato durante l'intervento di Michela Giulia buongiorno benvenuta Giulia Cromorelli professoressa appunto del dipartimento di design anche buongiorno del percorso di product and design manager quindi tu potrai spiegarci altri programmi che utilizzi molto tecnologici ti lascio la parola grazie mille perfetta tutta mi collego perfettamente a tutta la presentazione che ha fatto la professoressa di Stefano perché dietro a dietro a tutto quello che lei ci ha raccontato c'è anche la possibilità di saper modellare concretamente gli oggetti quindi in base a nel nostro corso di design cerchiamo oltre di avere tutta la creatività per realizzare progetti prodotti innovativi e sicuramente utili per il mercato ma impariamo anche sempre per un discorso di restringere i costi e permettere alle aziende di sperimentare e avere dei prodotti senza senza doverli creare inizialmente vediamo tutto quello che è il percorso di modellazione 3D stampa 3D e quindi offrire appunto questa questa tipologia di di esperienza per un nostro utente finale uno dei software che noi utilizziamo e che impariamo è quello di Rinoceros io vi ho messo alcuni esempi proprio generici perché sono sono un cucchiaio sono una lampada e una maniglia ma per farvi vedere la varietà sia da un punto di vista di forme che di tipologia di oggetto che noi possiamo andare a creare con questi software la cosa più bella che è nata soprattutto in questi ultimi anni è la fattibilità e quindi la possibilità di interscanare all'interno di scusatemi lo vedete ok noi siamo all'interno del software in questo caso di modellazione 3D che è Rinoceros ma oltre a vedere una prima visualizzazione di anteprima come come vedete la cosa bellissima è che noi possiamo esportare il nostro file 3D e portarlo nella suite che abbiamo prima insieme alla professoressa di Stefano e riuscire a creare un un mockup veramente di impatto sia per la scelta di materiali che di luci di colori e quindi di insieme quindi l'interscambio di questi programmi direi che è uno dei plus come professionista punto tantissimo a trasmettere ai nostri ragazzi l'altra l'ultima cosa che vi voglio far vedere ricollegando sempre a quello che ci ha raccontato la professoressa di Stefano è la possibilità di vedere e interno dei virtuali i tour virtuali nascono con l'intento di portare le persone con i clienti e in diverse realtà che possono arrivare a tenere questa In questo caso abbiamo preso come riferimento il Nike Store che c'è a Mì. Eccoci Giulia, ti vediamo un po' bloccato, ogni tanto abbiamo un problema di connessione probabilmente con il tuo collegamento, ok, vediamo magari se rimuovendo il collegamento al tuo schermo e a questo video che probabilmente magari crea un po' di difficoltà, riusciamo a ritornare a te? No, vedo di no. Giulia magari se riesci a ricollegarti, passerei intanto la parola a professor Fruette così almeno vediamo di andare avanti con la nostra diretta. Tiziano buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Giulia si è bloccata proprio sul momento clou. Sì, sul più bello tra l'altro. Più bello, esatto, esatto. Allora, Tiziano passiamo un attimino a te, dopo torneremo a Giulia se riusciamo a ristabilire il collegamento. Il professor Tiziano Fruette è un nostro nuovo docente del team di ITS. Che cosa insegna ai nostri studenti e che tecnologie utilizzi? Allora, quest'anno sono entrato nel parco docenti del ITS per insegnare le componenti di illustrator di grafica fondamentale che ha utilizzato anche Michela Di Stefano nella prima presentazione per l'ambito del 3D. Uno degli aspetti di cui mi occupo io è portare i ragazzi a conoscere le basi della grafica che viene utilizzata poi anche nei programmi molto avveneristici come quelli di prototipazione virtuale con una certa consapevolezza. Prima che saltasse il collegamento stavamo vedendo come funziona la modellazione tridimensionale, questo perché i programmi 3D che abbiamo visto in apertura richiedono che i modelli vengano già creati e in questa maniera riusciamo a creare delle figure professionali che non dipendano dal mezzo informatico ma che lo sappiano anche gestire con consapevolezza e con padronanza. Quindi questo vuol dire che non siamo in grado soltanto di dare delle figure professionali orientate al futuro ma che sono in grado anche di inserirsi in contesti lavorativi e operativi magari un po' datati, cioè riusciamo ad avere un'efficienza molto misurata in qualunque situazione operativa che vengono inseriti i ragazzi. Tanto per mostrarvi una delle parti di cui mi occupo io in questo momento, ho portato dei lavori che vengono fatti dai ragazzi più che dal sottoscritto e questi sono dei lavori raccolti anche durante gli anni che vi fanno vedere come è possibile realizzare con gli strumenti vettoriali, in questo caso di Illustrator, delle composizioni anche piuttosto complesse che si prestano a creare qualcosa di grafico in parallelo alla prototipazione virtuale che abbiamo visto prima. Recentemente ho sottoposto ai ragazzi un'analisi di un prodotto perché a seconda anche del corso che i ragazzi vogliono fare affrontano sì dei programmi di grafica o di grafica tridimensionale ma devono anche avere una visione critica sugli oggetti in parte perché potrebbero doveri realizzare in futuro e in parte anche perché devono relazionarsi con figure professionali magari più operative di loro ma devono essere in grado di parlare lo stesso linguaggio. In questo caso hanno fatto un'analisi di questa confezione che ha degli elementi grafici molto basi con delle primitive e hanno cercato di dare la loro interpretazione, la loro variantatura colore, la loro riproposta grafica per poter dare una variazione di soluzioni ai clienti nel momento in cui venisse chiesto di fare un lavoro di progettazione di questo tipo. Questa è una cosa che facciamo al primo anno e come si diceva prima grazie anche a Maria Luisa non è che i ragazzi devono arrivare già imparati a scuola ma devono essere messi in condizioni anche partendo da zero di affrontare tutti gli step di grafica che servono per lavorare correttamente a tutti i livelli. Vengono prese in considerazione anche delle piccole basi di logica e di matematica, queste sono delle sequenze procedurali di grafica geometrica. Come è possibile ottenere da degli elementi molto semplici, in questo caso un cerchio, una serie pressoché infinita, questa è una ristrettissima parte a solo uso didattico, una serie infinita di evoluzioni di motivi decorativi che poi affondano le loro radici anche nella componente storica della nostra cultura, il classico rosone che abbiamo nelle chiese lo possiamo replicare anche adesso ovviamente e lo possiamo fare con un controllo e con una rapidità che è quella che richiede anche il mercato del lavoro di adesso. Oltre alla componente grafica andiamo anche a sviluppare la componente fotografica, allora per dare un certo sapore alle immagini o a un eventuale materiale di comunicazione dobbiamo mettere i ragazzi in condizione di sapere come caratterizzare la foto e questo è uno dei possibili esempi del materiale che viene poi preparato a seconda dei corsi un po' più o un po' in meno per il programma didattico. Poi sempre perché siamo in condizioni di proporvi il software nella loro forma più recente e più aggiornata abbiamo modo di creare delle scenografie, questo è un panorama quindi la parola ci presta bene, però di creare delle variazioni a partire dallo stesso soggetto non soltanto se è un prodotto tridimensionale lì è quasi scontato che riusciamo a fare questo tipo di cose perché si cambia il set, si cambiano le luci, però affrontiamo anche marginalmente la questione di color grading e di correzione del colore per quanto riguarda la parte delle foto a seconda naturalmente del contesto in cui si va a operare. Parlandovi prima dei prodotti realizzati dai ragazzi, quindi spostandoci completamente dallo stile fotografico e andando più prettamente su quello grafico, su quello del fashion, vediamo che ogni ragazzo ha la libertà oltre che la padronanza di proporre la propria soluzione e il proprio stile utilizzando anche gli strumenti base che vengono fatti durante le primissime lezioni. Non è necessario avere, come si diceva prima, una infarinatura precedente a quando si arriva nella scuola, ma vengono affrontate tutte le tematiche di grafica fondamentali per mettere in condizioni chiunque di esprimere quello che ha da dire. Poi si cerca di accompagnare il ragazzo man mano che si sviluppa il percorso scolastico a sviluppare le proprie competenze o le proprie abilità dove si trova meglio per fargli raggiungere dei risultati magari ottimali. Non tutti potrebbero aver voglia, questo abbiamo visto prima, di diventare dei modellatori 3D, ma devono essere in grado di poterlo fare con un minimo di consapevolezza per poi magari spostarsi su una tematica più stilizzata o più fumottosa e se questo rappresenta quello che ha da dire maggiormente. Alcuni di questi lavori sono anche da datati negli anni, ma questo non vuol dire che siano anacronistici perché non c'è soltanto la parte dei programmi con potenzialità pazzesche che è dove sta andando il mercato, ma c'è anche la richiesta di degli elementi grafici più vintage, più retro, più stile anni 80-70 e cerchiamo di dare alle figure professionali che escono anche la consapevolezza, si diceva storica, di quello che si va a realizzare per non rendere gli schiavi dei programmi, ma per proprio far sì che sappiano interpretare correttamente quello che viene realizzato. Diciamo che la parte tua di programma è quella un attivino più base che abbraccia diversi corsi, diversi anche dipartimenti, non soltanto quello magari appunto dei ragazzi di moda, quindi di stilista tecnologico, ma anche quelli del marketing perché un minimo di base, di grafica è utile in tantissimi settori, quindi questo è il lavoro base. Dopodiché quello che ha fatto vedere la professoressa Di Stefano, piuttosto che stava facendo vedere la professoressa Colomorelli, sono due passaggi successivi di corsi invece proprio più incentrati proprio su programmi specifici e su una tecnologia completamente diversa. Questa diciamo è la base che però serve a tutti e anzi bisogna che i ragazzi imparino i programmi di base perché sono poi fondamentali, non devono essere anche schiavi ovviamente dei programmi, ma devono imparare a ragionare e lavorare con questi strumenti perché devono usarli al loro beneficio e non devono essere schiavi su questo condivido pienamente. Benissimo. Come ti stai trovando in ITS? Ti piacciono i nostri studenti? A me piacciono moltissimo gli ambienti dinamici come, scusate che sono più dalla condivisione, la regia mi tira via la, eccolo, mi piacciono moltissimo gli ambienti dinamici come questo perché non tutte le scuole, non tutti gli istituti hanno la capacità o la voglia a volte di mettersi in gioco proponendo delle soluzioni come quella che ha presentato Michele Di Stefano in apertura che adesso sembra funzionare molto bene e probabilmente sarà un gran successo, però non è un caso strano che una soluzione anche funzionale magari dopo due anni sparisca dal mercato perché ne arriva un'altra che adesso non esiste e quella viene completamente accontanata. Allora molte scuole tendono a restare sul tradizionale, fanno il minimo sindacale o le basi classiche storiche, così lì vai sul sicuro, ma resta scoperta tutta la componente di sviluppo o di possibile soluzione veneristica, ecco mettiamola così. Qui invece ho trovato una grande apertura sulle nuove tecnologie e soprattutto la volontà di insegnare una filosofia di una questione, quindi anche se un domani quel prodotto nello specifico non funzionasse più, il ragazzo ha già la consapevolezza che quel mezzo viene utilizzato con quella logica e applica la stessa logica in un altro contesto, quindi è una modalità molto completa di affrontare i problemi. Assolutamente, l'ITS è un'alternativa all'università, è un percorso di due anni, quindi un percorso breve che concentra tantissime informazioni ma cerca soprattutto di insegnare ai ragazzi ad immettersi nel mondo del lavoro e questo vuol dire per questo settore penso una continua anche aggiornamento di quello che sono le potenzialità che ti offrono i programmi, quindi non vuol dire avere una mente aperta, come diceva Michela bisogna sempre studiare ed è giusto continuare a studiare per aggiornarsi e quindi voi docenti cercate di trasmettere questa cosa agli studenti, cioè di ok ti insegno questo programma ma non ti devi fossilizzare solo su questo ma devi avere la mente aperta ad accogliere le novità o piuttosto che che altro, quindi assolutamente su questo è vero, il nostro istituto cerca di essere sempre sul pezzo e di rinnovarsi ogni anno, quello sia una caratteristica di TTS. Vediamo se riusciamo a intervenire di nuovo Giulia, Giulia ci sei? Ok, ci mancherebbe la connessione, capita. Io non so dove mi sono persa. Eravamo allo store di Nike e da lì si è perso. Perfetto. Ok allora facciamo che non ve lo ricondivido ma vi spiego brevemente le potenzialità e mi ricollego proprio a quest'ultimo vostro intervento perché è fondamentale rimanere al passo con quello che il mercato chiede, noi cerchiamo sempre prima che come docenti siamo appunto liberi professionisti, imprenditori e vogliamo trasmettere ai ragazzi il fatto come evolve rapidamente il mercato e come effettivamente si possono vendere perché alla fine dopo questi due anni sono loro in prima persona a mettersi in gioco. Quindi anche quest'anno l'idea di inserire questo corso di tour virtuale è proprio stata la volontà di far vedere come una nuova tecnologia possa essere utile non solo da un punto di vista appunto legato a quello che può essere la modellazione e tutto e tutto questo ambiente ma anche e soprattutto legato a un discorso di marketing e di comunicazione quindi è una cosa sulla quale davvero tengo molto oltre all'interscambio di software e di informazioni è proprio anche come queste materie e noi docenti riusciamo ad interagire e a creare dei progetti concreti dove all'interno dei quali poi sarà un ragazzo piuttosto che un altro a capire qual è effettivamente il suo settore e riuscire a trovare la strada giusta giusta per lui. Il nostro obiettivo è dare e trasmettere tutta diciamo un uniformità e questa e questa interazione che a livello di mercato e scolastico è secondo me molto all'avanguardia. Assolutamente, ieri ho fatto un webinar con degli studenti, nostri studenti in corso e tutti dicevano la stessa cosa, in ITS si respira un'area diversa proprio perché i docenti sono le professionisti quindi ci riescono a far capire quello che è importante studiare, importante apprendere che poi ci servirà assolutamente nel mondo del lavoro. Ovviamente sono due anni, sono concentrati, non possono imparare tutto in due anni di corso, ma devono imparare la mentalità di potersi aggiornare, informare, studiare e capire che bisogna essere sempre informati sul pezzo e questa cosa loro dicevano che ha per loro una grandissima importanza. Una ragazza addirittura aveva fatto precedentemente un percorso universitario e dice io questo team docenti così presente, così disponibile anche a consigli proprio dell'ambito lavorativo l'ho trovato soltanto in questo tipo di percorso, nel livello universitario non era la stessa cosa, erano ovviamente capaci, sapevano fornirci delle nozioni ma non ci sapevano trasmettere questa grinta proprio di saper affrontare il mondo del lavoro e quindi sicuramente state facendo un ottimo lavoro. Giulia vuoi aggiungere qualcos'altro? Io no, a posto, ok, allora direi alla regia se possono magari mettere il video della sede, il terzo che vedo in condivisione dello schermo, quello con... ok, posso farlo partire io? Ok, è per ricordarvi quasi in chiusura del nostro webinar dove siamo? Siamo di TS Macchina Donati di Brescia, siamo in Viettomaseo 49 a Brescia e la nostra sede recentemente è stata appena ristrutturata all'interno di questo istituto che prevede altri scuole e noi abbiamo un piano dedicato, è stato tutto ristrutturato con dei laboratori, le nostre aule sono diventate dei veri e propri laboratori per permettere ai nostri studenti di non soltanto studiare ma anche mettersi in gioco. Questo è il laboratorio di moda utilizzato dagli studenti del corso di stilista tecnologico dove trovate gli ampi di tavoli per il taglio, le macchine da cucire, le stirelle per confezionare tutti i capi. Questa è un'aula didattica perché permette anche di lavorare in gruppo, vedete la tipologia proprio dei tavoli che permette anche la condivisione con i docenti e tra i colleghi del corso, cerchiamo di far lavorare tantissime ragazze in gruppo proprio per riabituarli a quello che sarà il loro futuro lavorativo. L'aula di 3D con la presenza di una stampante, stampante, uno scanner dei tessuti che permette la digitalizzazione dei tessuti, l'acquisizione quindi del tessuto per poi modellarlo e creare la modellazione 3D. L'aula di product e design manager, come vedete sono veramente molto molto grandi, ampie e all'interno dell'aula di product trovato nella stampante 3D ed è appena appena arrivato un taglio laser, una tecnologia nuovissima. Infine questa è l'aula di fashion retail manager, ancora in fase di definizione ma prevederà una parte di parete attrezzata proprio per simulare un negozio, questa è un'aula didattica un pochino più semplice ma comunque con schermi per l'interattività con il nostro studenti. Eccoci, benissimo, chiedo alla regia se è possibile rimettere le prime slide della professoressa Di Stefano che avevano in chiusura forse i nostri contatti per poterli mettere a video, vediamo se riusciamo, esatto. Per maggiori informazioni il nostro ufficio orientamento è sempre disponibile, orientamento chiocciola, itsmacchinanonati.it, la mail, telefono è 030 300 671 e anche whatsapp 375 56 10 875. Nel nostro sito trovate anche le prossime giornate di Open Day, abbiamo deciso di dedicare degli Open Day specifici per ogni dipartimento, li trovate tutti sul nostro sito, sono a dicembre e vi invitiamo a venire a trovarci anche fisicamente nella nostra sede, visto che si può in questo momento, venite, sarete ben accetti. Io spero che questo webinar sia stato interessante, ringrazio tutti i docenti che sono intervenuti, spero abbiamo, spero di essere riuscita insieme a loro a raccontare un pezzettino di più del nostro ITS e ci vediamo presto, buon JobOrienta.